Dall'ufficio stampa del Vaticano arriva ora un comunicato. La portavoce vaticana, Monsignora Benedetta Mirandola, ha ufficialmente annunciato che sua santità, la papessa Benedetta I, è spirata la scorsa notte alle 3.45 per un attacco cardiaco nei suoi appartamenti privati. La portavoce, con voce rotta dalla commozione ma parole solenni, ha descritto gli ultimi momenti su questa terra di sua santità come sereni e colmi di fede. La papessa lascia dietro di sé un pontificato storico, caratterizzato dal ritrovamento delle scritture originali e da un ritorno ai precetti più rigorosi. L'intera chiesa è ora raccolta in profonda preghiera e invita tutti i devoti a fare lo stesso, mentre ci si prepara ai funerali solenni e al prossimo conclave per la nomina della nuova papessa. Nei prossimi giorni avremo nuovi dettagli dalla commissione apostolica.